Quando raggiungi la prima curva, ho più le auto che frenano davanti a te o ti giochi la gara. Forza! La pista è libera, ma già abriate. Dovrebbe iniziare a cadere una pioggia leggera entro 5 minuti. La pista è libera. 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 E' visto l'ha conquistato la prima posizione. 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 Ehi, c'è un A-Box a questo giro. Confermo che ti monteremo le gomme intermedie. Ehi, c'è un A-Box a questo giro. Ehi, c'è un A-Box a questo giro. 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 Il A-Box a questo giro. C'è un A-Box a questo giro. Il 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 A-Box a questo giro. Ok, abbiamo usato più della metà del carico di cambiante iniziale, ce ne resta il 40%. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.